professore cioè lei vorrebbe farmi intendere che è diventato comunista e ci vuole passare a capirlo compagno eh no ma se in Africa non c'è più nessuno sono tutti qua signorina non faccia lo spiritoso tre uova e bascia sei o la corrente elettrica o il caviale scappa voi scappate dalla guerra scappate dalla fame per rompere la bocca a me eh no eh no desidera si basta sembrato uguale questo professore non merita di insegnare ai nostri ragazzi ma c'era proprio bisogno di fare questo professore adesso vado a riprendere il crocifisso e lo metto dove era prima e la finiamo qui eh no veramente sono di fede islamica signorina ma che cosa ti è saltato in mente di fidanzarti con un musulmano come tu non eri quello multiculturalista eh il professore che toglie i crocifissi santità santità non 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 Grazie a tutti.